L'Agenzia Funebre Armando Apicella opera 24 ore su 24. Contattaci al numero in sovrimpressione. Si è svolto questa mattina a Napoli il programmato sit-in della Coldiretti Campania di fronte alla sede della Regione Campania in via Santa Lucia. L'organizzazione insieme ad agricoltori, allevatori, imprenditori agricoli e zootecnici, oltre a privati cittadini, ha organizzato una civile manifestazione chiedendo una soluzione all'emergenza legata all'aumento incontrollato dei cinghiali sul territorio regionale. Il gruppo si era dato appuntamento in piazza del Plebiscito per poi spostarsi verso la sede della Giunta regionale. In buona sostanza la Coldiretti ha rilevato che l'aumento degli esemplari di cinghiali sta creando problemi sia ai raccolti, con la conseguenza che le aziende colpite devono poi prendere in considerazione anche la chiusura, sia ai cittadini, perché l'altro problema non trascurabile riguarda una potenziale minaccia all'incolumità della gente, in quanto gli animali, in cerca di cibo, a un certo punto tendono a spingersi anche all'interno dei centri abitati, provocando sempre più spesso incidenti stradali, anche mortali. Per questo la Coldiretti chiede la massima attenzione verso il piano regionale straordinario di contenimento della specie, previsto da una specifica norma che può prevedere cattura, abbattimento e smaltimento dei cinghiali. Uno strumento efficace, secondo la Coldiretti, che può salvaguardare le imprese agricole e i cittadini con azioni più efficaci contro l'invasione degli animali e della fauna selvatica incontrollata. Proposta anche l'intensificazione della filiera di carne di cinghiale, che possa promuovere il consumo della stessa, gestire al meglio la popolazione degli ungulati e al tempo stesso ridurre i danni per gli agricoltori. È questo un problema sentito non solo in Campania in questo periodo, ma anche in altre regioni come Veneto, Friuli-Venezia-Giulia e Marche, dove pure ci sono stati degli altri sit-in a Venezia, a Trieste e ad Ancona, e ce ne sarà un altro la prossima settimana, in Sicilia, a Palermo. Già nei giorni scorsi la stessa Coldiretti Campania aveva lanciato l'allarme per l'emergenza cinghiali nel Cilento, in quanto parecchi di questi avrebbero creato danni materiali a una piantagione di ceci, con un'imprenditrice che avrebbe affermato di aver sporto denuncia ai carabinieri forestali, pur sapendo che ciò sarebbe servito a poco. Se non riusciamo più a produrre prodotti di eccellenze, addio dieta mediterranea e al mangiare sano, questo è l'allarme. L'importante è che nei riguardi di raccolti, imprenditori agricoli e i loro investimenti ci sia una tutela.